C'era una volta un uomo che aveva palazzi e ville principesche, e stoviglie d'oro e d'argento, e mobile a di lusso intarsiata, e carrozze tutte dorate di dentro e di fuori. Ma quest'uomo, per sua disgrazia, aveva la barba blu, e questo lo rendeva così brutto e spaventoso che non c'era donna, ragazza o maritata che soltanto a vederlo non fuggisse a gambe levate dalla paura. Fra le sue vicine c'era una grandama, che aveva due figlie, belle come raggi di sole. Egli ne chiese una in moglie, lasciando alla madre la scelta. Ma le ragazze non volevano saperne, e se lo palleggiavano dall'una all'altra, perché nessuna delle due voleva sposare un uomo che aveva la barba blu. La cosa poi, che più di tutto faceva loro ribrezzo, era che quest'uomo aveva già sposato diverse donne, e che di queste non si era più saputo niente. Fatto sta che barba blu, per entrare in relazione con le due ragazze, le portò insieme alla madre, e a tre o quattro delle loro amiche, e in compagnia di alcuni giovanotti del vicinato, in una sua villa, dove si trattennero per otto giorni. E lì fu tutto una serie di passeggiate, partite di caccia e di pesca, balli, festini, merende. Nessuno trovò il tempo per chiudere un occhio, perché passavano le nottate a farsi fra loro burle e scherzi. Sì, insomma, le cose presero una così buona piega, che la figlia minore finì col persuadersi che il padrone della villa non aveva poi la barba tanto blu, e che era una persona perbene. Tornati dalla campagna, si celebrarono le nozze. Di lì a un mese, barba blu disse a sua moglie che per un affare di molta importanza era costretto a mettersi in viaggio e a restare lontano almeno per sei settimane. La pregò di stare allegra durante la sua assenza, di invitare le sue amiche del cuore, e di portarle in campagna se le avesse fatto piacere. In una parola, doveva comportarsi come una regina nella sua reggia. Prima di partire, le disse «Ecco le chiavi delle due grandi guardarobe. Ecco quella dei piatti d'oro e d'argento. Ecco quella dei miei scrigni, dove tengo i sacchi delle monete. Ecco quella degli astucci, dove ci sono i gioielli e gli ornamenti di pietre preziose. Ecco la chiave comune che serve per aprire tutti gli appartamenti». S'interruppe un istante, poi sollevò l'ultima chiave di fronte ai suoi occhi e le disse «Quanto a quest'altra piccola chiave. È quella della stanzina che c'è in fondo al grande corridoio del piano terreno. Siete padrona di aprire tutto, di andare dappertutto. Ma vi proibisco di entrare in quella stanzina e ve lo proibisco in modo così assoluto che se vi accadesse per disgrazia di aprirla potete aspettarvi di tutto dalla mia collera». La moglie promise che avrebbe obbedito ai suoi ordini e Barbablu, dopo averla abbracciata, montò in carrozza e partì per il suo lungo viaggio. Le vicine e le amiche non aspettarono di essere cercate per andare dalla sposa novella, tanto morivano dalla voglia di vedere tutte le magnificenze del suo palazzo. Non si erano infatti arrischiati ad andarci prima, quando c'era sempre il marito, per quella sua barba blu che faceva loro tanta paura. Appena arrivate si misero subito a scorrazzare per le sale, per le camere e per le gallerie passando di meraviglia in meraviglia. Salite di sopra nelle stanze di guardaroba andarono in visibilio nel vedere la bellezza e la gran quantità dei parati, dei tappeti, dei letti, delle tavole, dei tavolini da lavoro e dei grandi specchi, dove uno si poteva ammirare dalla punta dei piedi fino ai capelli, le cui cornici di cristallo, d'argento e d'oro erano la cosa più bella e più sorprendente che si fosse mai vista. Le ragazze non la smettevano di magnificare e di invidiare la felicità della loro amica, che però non si divertiva affatto alla vista di tante ricchezze, tormentata, com'era, dalla gran curiosità di andare a vedere la stanzina del piano terreno. Non potendo più resistere, senza badare alla sconvenienza di piantare lì su due piedi tutta la compagnia, scese per una scaletta segreta, con tanta furia che due o tre volte ci mancò poco che inciampasse e si rompesse l'osso del collo. Arrivata alla porta della stanzina, si fermò un attimo, ripensando al divieto del marito e ai guai ai quali poteva andare incontro per la sua disubbidienza. Ma la tentazione fu così potente che non ci fu modo di vincerla. Prese la chiave e, tremando come una foglia, aprì la porta della stanzina. In un primo momento non poté distinguere nulla perché le finestre erano chiuse, ma a poco a poco cominciò a vedere che il pavimento era tutto coperto da una patina di sangue rappreso che luccicava nella penombra come uno specchio dove si riflettevano i corpi di molte donne morte che pendevano stecchite, putrefatte o mummificate dalle pareti e dal soffitto. Erano tutte le donne che Barbablu aveva sposato e poi sgozzato una dopo l'altra. Se la donna non morì dalla paura fu un miracolo. La sua mano si irrigidì e la chiave della stanzina, che aveva già tirato fuori dal buco della serratura, le cascò. Quando si fu riavuta, raccattò la chiave da terra, richiuse la porticina e salì nella sua camera per rimettersi dallo spavento. Ma era così sconvolta che non riusciva a riprendere fiato. D'un tratto si accorse che la chiave della stanzina era macchiata di sangue. Così la pulì due o tre volte, ma il sangue non voleva andare via. Allora la lavò molte altre volte e la strofinò con la sabbia e col gesso, ma il sangue non andava via. Barbablu tornò dal suo viaggio quella sera stessa E raccontò che lungo la strada aveva ricevuto una lettera, dove gli dicevano che l'affare per il quale si era dovuto allontanare da casa era stato concluso e per di più in modo molto vantaggioso per lui. La moglie fece tutto quello che poté per dargli a intendere che era molto contenta del suo improvviso ritorno. Il giorno dopo il marito le chiese le chiavi e lei gliele consegnò. Ma la sua mano tremava tanto che Barbablu poteva indovinare facilmente tutto quanto era successo. Allora le domandò, come mai fra tutte queste chiavi non c'è quella della stanzina? La moglie rispose, si vede che l'avrò lasciata di sopra sul mio tavolino. Badate bene, disse Barbablu con la sua voce tonante, che la voglio subito. La moglie cercò di tergiversare, ma alla fine dovette salire a prendere la chiave mancante. Dopo averla osservata, Barbablu domandò alla moglie, come mai su questa chiave c'è del sangue? Non lo so davvero, rispose la povera donna, più bianca della morte. Ah, non lo sapete? Ma lo so io, voi siete entrata nella stanzina. Ebbene, signora, adesso voi ci entrerete per sempre e andrete a prendere posto vicino a quelle altre donne che avete visto là dentro. La donna si gettò ai piedi del marito piangendo e chiedendo perdono con tutti i segni di un vero pentimento per avere disubbidito. Bella e addolorata com'era, avrebbe intenerito un macigno, ma Barbablu aveva il cuore più duro di un macigno. Le disse, dovete morire, signora, e subito. Poiché mi tocca di morire, rispose la donna guardandolo con due occhi tutti pieni di lacrime, datemi almeno il tempo per raccomandarmi a Dio. Vi concedo un mezzo quarto d'ora, non un minuto di più, replicò il marito. Rimasta sola, la donna chiamò la sorella e le disse, Anna, sorella mia, ti prego, sali in cima alla torre per vedere se per caso non stiano arrivando i nostri fratelli. Mi avevano promesso che oggi sarebbero venuti a trovarmi. Se li vedi, fai dei segni con le braccia perché spronino a sangue i loro cavalli. La sorella Anna salì in cima alla torre e la povera moglie sconsolata le gridava di tanto in tanto, Anna, Anna, sorella mia, vedi arrivare nessuno. Non vedo altro che il sole che fiammeggia e l'erba dei prati a perdita d'occhio. Intanto Barbablu, con un gran coltellaccio in mano, gridava con tutta l'aria che aveva nei polmoni, Scendi subito, se no salgo io. Ancora un minuto, per carità, rispondeva con disperazione la moglie. Subito dopo si metteva a gridare con voce soffocata, Anna, sorella mia, non vedi nessuno. Non vedo altro che il sole che fiammeggia e l'erba dei prati a perdita d'occhio. Sbrigati a scendere, urlava Barbablu, se no salgo io. Eccomi, adesso scendo, rispondeva la donna e subito dopo riprendeva a gridare. Anna, Anna, sorella mia, non vedi nessuno. Vedo, rispose stavolta la sorella, vedo una grande nuvola di polvere che viene verso di noi. Sono forse i miei fratelli? Ahimè no, sorella mia, è un branco di montoni. Insomma, vuoi scendere sì o no? Urlava intanto Barbablu, brandendo il suo coltellaccio e rovesciando a calci tavole e sedie. Un momentino ancora, rispondeva la moglie, e subito dopo riprendeva a gridare. Anna, Anna, sorella mia, non vedi nessuno. Vedo, rispose la sorella, due cavalieri che vengono da questa parte, ma sono ancora molto lontani. Sia ringraziato il Dio, aggiunse subito dopo la sorella che stava di vedetta. Sono proprio i nostri fratelli. Sto facendo dei segni con le braccia perché si sbrighino e arrivino in un baleno. Intanto Barbablu si mise a gridare così forte che fece tremare tutta la casa. La povera donna fu costretta a scendere e, tutta scapigliata e piangente, andò a gettarsi ai suoi piedi. Sono inutili i piagnistei, disse Barbablu. Dovete morire. L'afferrò con una mano per i lunghi capelli e sollevò il coltellaccio con l'altra per tagliarle la testa. La donna si girò verso di lui e, guardandolo con occhi morenti, gli chiese un ultimo istante per pregare. No! No! gridò Barbablu. Raccomandati subito addio! E alzò il braccio che brandiva il coltello. In quello stesso istante bussarono così forte alla porta di casa che Barbablu si arrestò all'improvviso e andò ad aprire. Entrarono due cavalieri con le spade sguainate e si gettarono su Barbablu che si diede alla fuga. Ma i due fratelli, un moschettiere e un dragone, lo raggiunsero prima che potessi arrivare al portico di casa e colpirono e trafissero più volte da parte a parte il suo corpo e il suo volto con le loro lunghe spade affilate. Grazie! 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 Grazie!